Ci mancava la stazione veterinaria, noi ci abbiamo sempre creduto in questo settore perché è un settore che manca, noi ci accorgiamo negli anni abbiamo cavalli da circa 20 anni e quando succede un trauma, un problema è sempre una difficoltà portare il cavallo da qualche parte per farlo curare, anche perché il cavallo non è un gatto o un cane di facile trasporto diciamo e quindi ho trovato la collaborazione del dottore Crudele e insieme abbiamo realizzato questo progetto con dei box nuovi a sua disposizione che penso che avete visto penso che sia soprattutto una struttura a servizio anche degli altri centri ipici della provincia di Salerno chiunque ha un problema, il dottore Crudele ha una specializzazione nell'apparato locomotore quindi qualsiasi cavallo, un problema, un trauma, una lesione può venire qui, lascia il cavallo e poi il dottore con la sua equip lo segue durante il periodo della convalescenza e poi ci sta la fase della riabilitazione del cavallo che si fa sempre qui da noi con i nostri tecnici federali ad Antonello di Cerbo è servito il mio lavoro professionale per due problemi che erano successe ai suoi cavalli da lì mi si è accesa sta lampadina la struttura è il massimo per poter curare e ricoverare un cavallo abbiamo qua la possibilità di fare tutti i test, parlo per il mio ambito che è quello dell'apparato locomotore quindi delle zoppie, qui puoi trascorrere delle ore a studiare un problema locomotorio di un cavallo perché hai terreni diversi su cui appunto fare test diversi comodità e spazio per i test diagnostici e soprattutto quello di poter allestire un locale con la diagnostica perché non devi spostare continuamente apparecchiature che poi cominciano a funzionare di meno perché sono continuamente trasportate e soprattutto così con l'andare del tempo e dell'evolversi di questa esperienza delle apparecchiature sempre più sofisticate